Si ripresenta il problema dei rifiuti abbandonati nell'immediata periferia della città di Ragusa e in alcune zone rurali. A parlarne questa volta il consigliere comunale Giovanni Gurrieri. Dobbiamo decidere una volta per tutte. Ai turisti vogliamo far vedere monumenti barocchi o cumuli di rifiuti che creano pian piano vere e proprie discariche abusive? È questo quanto reclama, sollevando nuovamente un problema che già nei mesi scorsi era stato oggetto di intervento anche in consiglio comunale. Comprendo benissimo, afferma il consigliere d'opposizione, che la presenza di rifiuti abbandonati non è di certo responsabilità del sindaco e della sua amministrazione, ma il recupero di questi rifiuti, la bonifica di questi siti, sono invece competenze del comune. E dico tutto ciò perché sono davvero amareggiato per quel che vedo, oltre a ricevere segnalazioni, molte delle quali verificate di persona, che evidenziano come ci siano rifiuti in abbondanza anche lungo le due strade di collegamento, quella vecchia e quella nuova, tra Ragusa e Modica. Si tratta dunque di una strada di collegamento ad altra fruizione, che viene utilizzata anche dai turisti che scelgono di visitare due centri barocchi. Due città che hanno monumenti patrimonio dell'umanità, che sono sempre più frequentate dai visitatori e giocano ormai un ruolo importante. Gurieri ricorda poi come la questione rifiuti abbandonati ormai è un problema che prosegue da molto tempo. Una questione continua che lo scorso anno è arrivata perfino alla ribalta nazionale, dopo che un giornalista che era venuto in visita a Ragusa per un evento, tornando in aeroporto, ha avuto modo di notare come ci sia questa assurda disorganizzazione tra la città e la sua immediata periferia. Ne è uscito fuori un articolo, ma si è fatto poco. Gurieri chiede un intervento immediato del comune di Ragusa, dando giusti input all'azienda che si occupa della gestione ambientale, considerando che nella parte di competenza del comune di Modica non si trovano rifiuti. Infine il consigliere suggerisce di attivare lungo questo tragitto la videosorveglianza, sperando di poter risolvere in parte il problema.